Presidente, intanto voglio ringraziare l'assessora, il collega Di Palma e anche il collega Diaco perché non facendo parte io della Commissione Ambiente mi hanno dato aiuto e supporto nella estensione di questi emendamenti. L'emendamento 23 si riferisce al titolo nell'indice e quindi faccio anche riferimento al successivo emendamento 34 su cui non interverrò perché invece entra nel merito sempre del titolo e del testo e si aggiunge alla parola installazione di strutture e strutture temporanee, ovviamente quelle che poi devono essere inserite all'interno del contesto del verde. Grazie.